Lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 25 del mondo, ha battuto l'americano Steve Johnson a 6-4-7-6 al primo turno del Rolex Paris Masters. Ecco il suo dritto vincente. Sul lento Endor di Bersin cartellone anche Nadal, Djokovic, Federer e il campione uscente Sock. Al secondo turno Bautista Agut affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, già messo al secondo turno Fabio Fognini, testa di serie numero 13. Subito fuori invece Marco Cecchinato, sconfitto 7-5-6-3 dal portoghese Joe Sousa.